La visita del Santo Padre è un grande dono, un grande dono alla comunità, un grande dono alla mia università che si trova al centro purtroppo di questa enorme catastrofe. Che cosa speriamo? Speriamo che i riflettori non si spengano o che magari si riaccendano perché in realtà forse nell'ultimo periodo i riflettori su questa nostra parte d'Italia, una parte fondamentale, una parte che ha dato all'Italia tanto in passato, purtroppo i riflettori sono stati spenti. Noi siamo un po' il polmone di questo territorio, grazie all'Università di Camerino almeno 1500 famiglie oggi possono guardare al futuro perché hanno un lavoro grazie a noi. Abbiamo paura che questa attenzione sempre inferiore e poi un giorno possa far sì che anche quelle risorse fondamentali per andare avanti non arrivino più.